Come cosa ricercano? Isabella Convertini, qual è stato il contributo di Kayak al VHR 2012? Innanzitutto il primo anno che Kayak partecipa al VHR e siamo molto contenti perché è stata un'occasione imperdibile per avere un po' il contatto con i gestori delle strutture alberghiere e con altri colleghi del settore del viaggio. Il nostro contributo è stato quello di parlare di come è cambiata la ricerca e la promozione degli hotel nel mondo di oggi, il mondo di internet, dei siti web, dei metamotori anche. Quindi da un lato vedere il consumatore di oggi, come ricerca gli hotel, cosa è cambiato e dall'altro vedere io, operatore, gestore di una struttura ricettiva o di più strutture, come posso sfruttare strumenti come Kayak. Che cosa vuol dire per un'azienda come Kayak partecipare ad un evento del genere? Per un'azienda come la nostra che lavora molto sulla tecnologia e sul fornire uno strumento di confronto e di ricerca di informazioni è molto importante avere poi il confronto diretto però con chi ci usa. Quindi da un lato il consumatore ma dall'altro gli albergatori e chi lavora poi tutti i giorni sul campo. E anche per far capire che dietro questi grandi nomi si nasconde una persona? Sì, sicuramente si nascondono persone, in Kayak siamo 200, ne abbiamo presentata una, qui sono io, adesso chiunque dopo la presentazione, dopo il VHR ha bisogno di dare un volto e di scrivere a Kayak, sa che c'è qualcuno dietro. Qual è il suggerimento più prezioso che hai dato alla platea del VHR? Uno dei, ho presentato i risultati di un sondaggio fatto sui nostri utenti, il sito, le informazioni e le foto sul sito degli hotel sono uno degli strumenti che influenza di più la scelta. Quindi sicuramente, indipendentemente che lavoriate con delle holta o meno, che vogliate intermediare o meno, curate il sito, il vostro biglietto da visita è importantissimo. Come strumento come Kayak? Come strumento di visibilità o come?